Buonasera a tutti. Come molti di voi sapranno, questa mattina al Tar di Milano ho emesso la sentenza in merito al ricorso delle associazioni animaliste LAC, LIPU, WWF contro il calendario venatorio di Regione Lombardia e ha respinto questo ricorso. Noi fin dall'inizio avevamo detto che Regione Lombardia aveva motivato in modo corretto, abbiamo sollevato delle eccezioni sui 90 sasselli e sulla chiusura del sassello e della Cesena al 20 gennaio, comunque aveva motivato in modo corretto e puntuale e approfondito le motivazioni per discostarsi dal parere ispra e il Tar ovviamente la pensa come noi se ha dato ragione alla Regione Lombardia. Ha dato ragione anche a Federcaccia citandola ben nove volte nella sentenza, dimostrazione che la nostra strategia di investire in ricerca, in studi, in giovani ricercatori, nello studio legale, in avvocati che si stanno specializzando in diritto venatorio, chiamiamolo così, è una scelta vincente e credo che questo dovrebbe far riflettere la maggior parte dei cacciatori lombardi. Cioè iscriversi a Federcaccia serve per difendere la caccia di tutti e serve in modo concreto, non con le parole o con i proclami. La sentenza del giudice del Tar di Milano di oggi è molto importante perché innanzitutto è andata a incenerire, se vogliamo, questa richiesta degli animalisti che volevano rendere la caccia anticostituzionale, dopo la modifica dell'articolo 9 della Costituzione di un paio d'anni fa. Il giudice ha ritenuto che questa richiesta non è assolutamente sostenibile e vi voglio leggere un passaggio della sentenza che trovo molto importante. L'attività venatoria è praticamente coeva alla storia umana e sebbene abbia perso ormai il suo carattere originario di prevalente, se non addirittura esclusiva fonte di sostentamento della comunità, rappresenta parimenti una parte della tradizione sociale e culturale italiana, senza contare che la caccia persegue oggi una finalità non solo ricreativa ma anche di misura di conservazione del patrimonio animale. Si pensi all'abbattimento selettivo di specie reputate eccessivamente invasive oppure all'abbattimento per limitare la diffusione di gravi patologie quali la peste suina africana. La sentenza poi smonta punto per punto tutte le stupidaggini messe nel ricorso da parte delle associazioni animaliste, quindi citando i periodi delle migrazioni. Addirittura hanno scritto che si potevano prendere trenta natidi al giorno, quando la legge dice dieci. Viene smontata la questione dei key concept, i periodi delle migrazioni, evidenziando come i key concept italiani sono un mese antecedenti ai key concept di tutto il resto d'Europa. Hanno smontato anche le questioni relative alla giornata integrativa. Per gli altri anni per Ispra andava bene una giornata, quest'anno non si doveva mettere neanche questa giornata integrativa. Insomma è stata una sentenza che ovviamente fa giurisprudenza, del Tar più importante dopo quello del Lazio d'Italia. È una giornata storica per noi cacciatori. Quando io vi avevo detto che dovevamo avere fiducia nei giudici, dovevamo avere fiducia nella giustizia, perché siamo un paese civile, oggi abbiamo avuto la dimostrazione che abbiamo fatto bene ad avere fiducia.